Cazzo, in pieno! Che immondezzaio! Cazzo, in pieno! Sì, non ti fermi mai tu. Quegli scrittori sono delle merce a sé. Si intitolava dal popolare alla labbra, il giorno del giudizio la coperisse nella poesia vittoriana. E di cosa trattava? Non lo sai, poi chi parla di sotto l'aula, di oscure, mari senza sole, un po' di ciudomundranca a farlo breve. Ha venduto? Il mio genere di libri non si basa sulle vendite, non scrivo per questo, perciò... no. E su cosa lavoravi pure? Thomas Hardy. C'è rimasto qualcosa da dire su quello stocchevole scorciatore? Scusami, ma non c'è niente di perciò sui nardi, è un concetto sbagliato. Almeno sei stato pubblicato, sto schiumando l'invidia. Magari l'ho dispubblicato. Io non mi pubblico da sola su internet. Ah, e mi ricavi un guadagno? No. Di cosa scrivi? Dele telebrici. Sono qui a prendere sconti dal maestro. Beh, non è meglio che faccia un salto da solo? Beh, allora sono pronta. Alla mia occa. Quello è... Ti metti quello? Oh. Mi sembra un po'... Shadda. Sei abito nel venerdì e sempre strappieno di non dire si stressati. Dubbito che troveremo un tavolo libero. Facciamo la settimana prossima, una serata speciale. Ti metti lo sento per scontato. Sono un'invidia, lo so. Dovesti prendermi a calci. Lei che? Cosa? No, avanti, per. Dimmi chi. Senti, non è niente. È capitato una o due volte tutto qui. È solo... Beh, non è niente. Dimmi chi. Lei fa per entrare. Gli sposi stanno ballando. Ho solo una ricercatrice di ragazzo. Come si chiama? Nadia. Nadia Patel. Patel? Ma in il tuo libro. No, no. Lo ho conosciuto quando ero a desertata. Ma in questo? È nel tuo libro. Sì, ma non è che sia stata una notaria. Tu non...